Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vedremo insieme la seconda maglia della Juventus per la stagione 22-23 in versione fan, la maglia di Pogba. Prima di lasciarvi vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale per avere altre recensioni in futuro. Ci vediamo dopo! La maglia da trasferta AIDAS Juventus 2022-23 introduce una combinazione di colori che si adatta perfettamente al club. Ufficialmente i colori della maglia sono black, white, carbo. La base scura è abbinata al bianco, utilizzato per i loghi e per le classiche 3 stripes AIDAS sulle spalle. Sottili strisce verticali sono create sul davanti con un aspetto appuntito in antracite e nero. Come la prima maglia 2022-23, la maglia da trasferta presenta il logo Jeep con il pulmine all'interno dei contorni. Catturare la magia delle partite notturne. È questo l'obiettivo dell'elegante divisa nera, con sottili spunti di design che fanno riferimento al DNA del club. Bella! Questa maglia è, nella mia classifica, una delle più belle e prende 5 stelle. Peraltro è fatta molto bene con tutti i rifiniti giusti, le cuciture perfette e, se vedete il prezzo qui sopra, veramente un prezzo molto molto interessante. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e, peraltro, questa maglia ha avuto una consegna anche molto veloce. È arrivata in 18 giorni dall'ordine alla consegna. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete la vestibilità, però prima di farlo vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Oggi è tutto, ciao! Io sono alto, 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vi ho detto è una taglia media, della versione FUN! FUN!